Amici di Radiofonica.com, Emilia Universitario di Perugia, oggi 7 aprile 2014, siamo con il Presidente Emerito della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, che presenta il numero 30 della rivista Alternative per il Socialismo, dal titolo L'Europa Reale. In sintesi, che cosa sarebbe questa Europa Reale di cui lei parla? L'aggettivazione reale appiccicata all'Europa è l'eco, ricordiamo tutti, del comunismo reale. Si diceva per comunismo reale i paesi dell'est, perché si diceva così? Per dire che avevano tradito la promessa, la promessa del comunismo è stata la liberazione delle donne e degli uomini dallo sfruttamento capitalistico e i regimi, dopo averlo interpretato, sono rovesciati nel suo contrario, cioè in regimi di oppressione. Analogamente, con tono provocatorio, usiamo l'aggettivo reale sull'Europa, per dire la stessa cosa, che l'Europa che era nascita, era nata col desiderio di dare ai popoli dei diversi paesi europei una grande casa comune in cui si potesse abitare in nome di riconoscimento di diversità, di pluralismi, di esperienze umane ricche, di raccogliere domande di cambiamento che c'erano sia rovesciata nel suo contrario. L'Europa oggi è una prigione. Lei ha parlato di un'Europa neo-autoritaria, ha parlato anche di un'idea social-liberista che sarebbe la nuova pratica dei nuovi governi attuali. Ha indicato anche l'Italia, con l'attuale governo Renzi, come una delle punte di diamante di questa nuova forma di politica, ha indicato un soggetto come quello del governo partito, basato sui grandi annunci. La domanda è la seguente. Questo processo è cominciato, comincia con il governo Renzi o c'era già qualche precedente già con Berlusconi e il fenomeno berlusconiano in generale? Renzi è un fenomeno nuovo, per molti versi, culturalmente, soggettivamente. Le sue politiche no, sono appunto quelle social-liberali conosciute anche in dottrina come social-liberali, che vuol dire semplicemente che incorporano totalmente la storia delle politiche di austerità, se le mettono addosso, cioè il taglio di bilancio, la parità, però aprono un occhio alle condizioni sociali più devastate dalle politiche precedenti e contemporaneamente spostano l'asse dell'intervento su quelle che chiamano le riforme di struttura, che è in realtà la messa sotto il gioco definitivo del mercato del lavoro, che viene spogliato di ogni soggettività, di ogni potere contrattuale. Queste sono le politiche social-liberali che, diciamo così, Renzi fa come Olanda, ecco, non diversamente da Olanda. E l'Europa oligarchica è l'Europa che è stata costruita, non ieri, in questi ultimi 25 anni, in un quarto di secolo, dopo la sconfitta del movimento operaio, degli anni Ottanta, il crollo dei regimi dell'Est, la mondializzazione, che abbiamo così chiamato la globalizzazione capitalistica, è penetrata in Europa attraverso delle politiche di governi che hanno privatizzato, liberalizzato e hanno cominciato a erodere le basi di quello che era il compromesso sociale che si era realizzato. Il compromesso sociale voleva dire che i lavoratori e i padroni si erano contrastati ma avevano trovato un compromesso, che sinistra e destra avevano lottato duramente l'uno contro l'altro, ma che la sinistra è riuscita a imporre allo stato sociale e fa aprire la strada al potere contrattuale dei lavoratori. Quella stagione è stata battuta, in questi 25 anni, di restaurazione capitalistica e la globalizzazione è diventata il veicolo di una grande rivincita di classe. Quando questa globalizzazione è entrata in crisi, i governi europei hanno praticato le politiche di austerità e hanno costruito una nuova fase di un'Europa che prima era in deficit di democrazia e adesso è una vera oligarchia. Una oligarchia resa necessaria per il sistema perché le politiche che fa non sono in grado di guadagnare il consenso popolare. Quindi ti mandano le elezioni ma è come se tu non votassi, perché tanto il governo è già deciso e sono già decise le politiche del governo, a meno che intervenga un grande cambiamento dei rapporti sociali, una rivolta e allora forse cambiano le cose. Nell'analisi, lei prima ha citato la sinistra francese e il risultato politico francese, lei ha detto che il problema non è uno scontro fra destra e sinistra, ma fra elite e popolo. Attualmente chi sono le elite? Poi lei ha indicato anche un nemico, ma è molto collegato, il sindacato. Lei ha fatto parte del sindacato, è stata una parte attiva del sindacato della sua storia di uomo e di militante. Allora, se dobbiamo fare una discussione, facciamo una discussione, ma allora ci vorrebbero delle elezioni. Allora, soltanto una domanda molto semplice. Come ha fatto le premesse, è troppo grandi, altrimenti è una mia reticenza, sembrerebbe una condivisione della tesi. Io ho semplicemente detto che esiste in Europa oggi un conflitto tra l'altro del basso della società, perché le elite hanno preso una rivincita sulle masse popolari, si sono arricchite smisuratamente, hanno imposto il loro dominio sulle masse popolari. Questo, in assenza di una sinistra che si è sostanzialmente volatilizzata in quei 25 anni precedenti, accedendo all'idea della governabilità, hanno sostituito l'eguaglianza con la governabilità, si è polarizzata in uno scontro, invece che da destra a sinistra, tra l'alto e il basso della società. La sinistra, se si vuole ricostruire, deve cominciare da questo conflitto, deve riposizionarsi nel basso contro l'altro per ridefinire una idea di eguaglianza. Grazie. Il Presidente Bertinotti ha detto due minuti, in effetti è stato così, anzi abbiamo provato anche a farne più di due minuti, ci abbiamo provato. Comunque amici di telefonica.com, vi lasciamo, fa poco comincia l'incontro del Presidente Merito della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, che presenta l'ultimo numero di alternative per il socialismo. Alla prossima. Grazie. Grazie.